e le nomine di alcune procure, in fondo ha fatto quello che hanno sempre fatto tutti negli ultimi 60 anni solo che con dei metodi di intercettazione molto più sofisticati oggi gli veniamo a sapere queste cose. È così anche in base alla sua esperienza. Un discorso come dire, hanno sempre rubato le macchine, hanno sempre fatto le rapine, c'è sempre stata la mafia, ora scoprite le prove e le volete anche arrestare. Che bizzarre pretese, se si è sempre fatto così si lascia che è continuo in questo modo. Ovviamente è una di quelle affermazioni che affossano la qualità del dibattito pubblico del nostro paese e naturalmente sono un disastro per la sinistra, molto più che per certa destra populista che invece ci sguazza in questo tipo di non argomenti. Quindi il segretario del PD Zingaretti avrebbe dovuto essere molto più duro con Luca Lotti? Ovviamente non voglio dare lezioni a nessuno, io stimo Zingaretti, l'ho anche votato pur non essendo iscritto al PD ma alle primarie l'ho votato, quindi faccio sempre questa precisazione per dire che trovo sia un ottimo segretario la persona adatta in questo momento. Fatta tutta questa premessa, io credo, e l'ho detto anche a lui direttamente in occasione di un dibattito pubblico, che ci vogliono parole molto molto nette su questa vicenda. E lo sforzo che io capisco di tenere insieme un partito in un momento difficile giustifica fino a un certo punto alcune timidezze, oltre a un certo punto secondo me no. Secondo me bisogna dire con estrema chiarezza, per me è un concetto fondamentale, che in questo Paese, e che accada a destra mi interessa poco, ma mi preoccupo se accade a sinistra, si è perso il senso della vergogna. Il fatto che qualcuno dica si è sempre fatto così, quindi non ce ne dobbiamo interessare, significa che uno non percepisce il bisogno di vergognarsi per questa roba. Che significa che si è sempre fatto così? Adesso sono stati beccati, fino a un certo punto non erano stati beccati. Il comportamento criminale o di malcostume, pregresso, ovviamente non giustifica quello attuale, soprattutto quando, se per fortuna, viene beccato. Caro figlio, lei è tifo...